Ci sarà l'arrivo e la ripartenza del Giro d'Italia il prossimo mese di maggio per cui Elvio, prego Niente, è una cosa abbastanza semplice Giovedì 23 dovrebbe arrivare il Giro, è la Curio-Pinerolo e venerdì 24 maggio ripartirà da Pinerolo non sappiamo ancora da dove, il Giro verrà presentato mercoledì 31 ottobre a Milano comunque giovedì 23 e venerdì 24 l'avremo per due giorni a Pinerolo ed è la quinta volta in Pinerolo Questa è una bellissima notizia per tutti gli appassionati di ciclismo